Il GAL Colline Salernitane continua il suo impegno per offrire opportunità a giovani professionisti del territorio. Si sono concluse ieri le procedure di selezione dell'avviso pubblico per la partecipazione di quattro giovani ad un corso di formazione nel settore del turismo rurale attraverso un percorso didattico di 700 ore da svolgersi nel corso dell'anno 2023 presso l'Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Economia e Statistica dell'avviso pubblico a valere sul progetto di cooperazione transnazionale Village of Tradition di cui alla misura 19.3.1. L'opportunità per i quattro professionisti dopo aver concluso il percorso didattico formativo è quello di aiutare i nostri territori rurali ed affrontare questioni complesse ma che rappresentano un enorme potenziale di sviluppo in chiave turistica supportando i tanti attori locali che possono essere messi in rete ed organizzati per un'offerta turistica rurale sostenibile e rigenerativa. Sottolinea il coordinatore Eligio Truisi il quale aggiunge il GAL si proietta così verso la nuova programmazione che vede le professionalità del territorio ed in particolare i giovani sempre più attori protagonisti. Se il futuro appartiene a loro noi abbiamo il dovere di creare le condizioni affinché siano loro i protagonisti del proprio destino.